namaste io sono ace the brave bentornati in un altro episodio di dare lo don dare la rubrica settimanale che vi porta un gioco diverso dal solito e facciamo un po ragionamento su quelli che sono i vari aspetti di un videogioco le filosofie che stanno dietro la creazione di videogioco e andiamo un po oltre diciamo sessantasettesimo episodio un altro gioco di managor ho deciso di fare tipo tutti i giochi che ha fatto perché sono uno meglio dell'altro e questa volta giochiamo a walkie talkie un gioco molto molto interessante in cui ci viene chiesto il nome indietro vedete un po di comandi che possiamo usare probabilmente sarà tutto con la tastiera io sono il signor ace probabilmente ha esatto non ci sta tutto quindi scriviamo ace e basta e benvenuto e come potete vedere possiamo muoverci e siamo più o meno in un linguaggio di programmazione sembrerebbe vediamo di capire benvenuti a walkie talkie chat non si non fare il il bau cotto e divertiti le sono le regole abbiamo help possiamo muoverci con le arrow keys o page down e page up per andare più velocemente enter per entrare un livello e esco per uscire f2 per i livelli favoriti e f3 per trovare un livello puoi anche navigare i livelli play lab ok con un gamepad quindi ce l'abbiamo il mio controller xbox 360 che mi segue da una vita ormai su questo canale tab per andare da una navigazione typing quindi posso scrivere o posso leggere per mandare un messaggio prevo enter e ashi sacco di cose varie che non ho idea di che cosa vogliono dire magari qualcuno conosce qualche linguaggio di programmazione potrebbe essere ah ok forse è tipo sta russando e managor si sveglia scusa sto ancora lavorando su questo ASDF Ashi Ashi bot proviamo magari sono i livelli oh mio dio questo gioco è bellissimo questa cosa è bellissima ho completato il livello quindi se noi premiamo questo è un livello oh che bello ma Anagon riesce sempre a stupire io non provo i giochi di Ludum Dare a volte proprio per poter ragionare su queste cose qui si ragiona sul fatto che questi sono livelli effettivamente e è un meta livello è un livello ma anche la spiegazione se ci pensate se avete presente alcuni giochi da tavolo io sono un altro appassionato di giochi da tavolo se avete mai giocato a Flux che è un gioco di carte senza regole in cui le carte sono le regole e quindi io gioco una regola del gioco che è una cosa fighissima per quanto riguarda il metagioco questo effettivamente me lo ricorda molto perché io posso giocare questo livello è ad esempio la E se io cado sulla E la E si muove poi cosa vediamo ci sono caratteristiche strane io posso muovermi posso andare in giro posso usare anche il gamepad per muovermi sto cercando di capire se ah ok vedete che questi mi fanno saltare ci sono alcuni caratteri insomma che hanno una caratteristica diversa in questo caso le E che se ne stanno andando in giro in questo caso vedete la E di Navigate che sta ritornando e quindi possiamo creare i nostri livelli molto molto interessanti proviamo a fare questo livello questo livello ha una salita ha una L le V cosa fanno le V vanno giù come potete vedere e quindi molto molto interessante devo dire che si è molto attenti sono caduto nel vuoto quindi sono morto quindi lo trovo molto interessante questo personaggino è un personaggino formato da veramente una manciata di pixel credo siano fatemi vedere quanti pixel sono 4 per la testa 4 per le braccia il corpo e tipo 4 per le gambe tipo 12 pixel in tutto e quindi molto molto interessante vedere questa cosa vediamo cosa succede qua questi sono dei salti da fare attenzione che mi uccido da solo e quindi molto molto bello appunto andare a fare un gioco con i caratteri del gioco c'è un altro gioco molto interessante che vi mostrerò prima o poi che si chiama Type Rider se non mi ricordo male è un gioco spiegazione nel senso che è un gioco che descrive la storia che sta dietro alcuni font famosi quindi molto molto interessante appunto le calligrafie è un gioco che parla di calligrafie che racconta una storia se vi ricordate il mio let's play di Thomas Wozalone è una cosa abbastanza simile come mood come ambientale dal punto di vista del come atmosfera ecco vediamo un po' cosa succede se andiamo a fare questo livello ok questo livello vuol dire che cos'è una I questa questo è un livello che ci uccide dal punto esclamativo ok quindi il punto esclamativo si comporta in questa maniera qua abbiamo le ce la faccio saltarlo no perché salto troppo poco quindi dobbiamo andare qua poi abbiamo questo che va avanti e indietro abbiamo gli uguali invece che si muovono in alto e in basso quindi molto bello e quindi possiamo creare effettivamente il nostro livello se vogliamo vediamo cosa succede qua qua abbiamo questi che ci fanno saltare immagino esatto uno ci ha fatto saltare da una parte uno ci ha fatto saltare in alto un altro ci ha fatto saltare verso destra potrei anche fare questo livello qui dove c'è la O minuscola che ha la parte che mi dà fastidio l'apostrofo che mi potrebbe uccidere e poi appunto c'è il punto esclamativo in fondo l'ashi non ha niente di caratteristica mi sembra tra questi qua che cosa abbiamo abbiamo un sacco di punti esclamativi bello anche che si attivano con con diverso con diversa tempistica quindi dobbiamo stare attenti c'è questa onda che si viene a formare qua siamo un pochino più alti perché sono le maiuscole quindi va bene va meglio qui abbiamo questo che ci fa saltare di qua stiamo attenti c'è qualcuno che spara ok ci sono le grafiche sparano bella come situazione e quindi appunto prende varie caratteristiche del 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 nostro alfabeto e lo trasforma in un gioco quindi molto molto bello queste qua sono delle degli asterischi invece che ci servono per muoverci sono curioso di vedere cosa fanno questi otto ah ok spariscono ok dopo un po' spariscono ok poi che cosa abbiamo ancora qua abbiamo delle z le z vediamo che cosa sono ah cascano vediamo queste rimangono qua forse le z cascano del tutto si le z cascano del tutto mentre le v minuscole no quindi buono sapersi così abbiamo anche questo stiamo attenti di qua questo va un pochino più veloce del solito questo l'abbiamo visto e poi non so perché ci sia tutto questo disastro quindi molto molto interessante e qua appunto vediamo tutto tutto il resto quindi molto molto bello e qua abbiamo completato i livelli quasi tutti ci manca questo da completare vediamo di completarlo perché così abbiamo il nostro pallino sulla sulla destra che si forma proprio quando finiamo il livello e qua appunto discutiamo sul fatto che tutto può essere un gioco anche semplicemente giocare con le scritte quindi molto molto interessante come cosa come facciamo a superare l'ultimo ostacolo qua andiamo da questa parte attenzione quindi questo è un platform basato su un'idea molto molto interessante non so esattamente da che Ludum Dare venga fuori oppure se è stato fatto semplicemente con l'idea ma mi sembra molto molto interessante questa cosa ops ok ce l'abbiamo fatta quindi abbiamo completato tutti dovrei completare anche questi giusto vediamo cosa succede se completiamo questo se ci prendiamo la cosa anche alla fine ah si ce le prendiamo tutte sono appunto gli schemi ci sono anche queste qua sopra tra l'altro quindi è un gioco che stupisce l'uno sparisce a quanto pare e poi ricompare forse o sparisce e basta l'h avete visto che ogni tanto sparisce e ritorna quindi abbiamo tante tante belle cose ed lo trovo molto 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 interessante veramente bello e con pochissimo veramente si riesce a fare tanto quindi molto complimenti a Managor che stupisce ogni volta effettivamente walkie talkie ha anche senso perché walkie talkie vuol dire che è un gioco di parole appunto con walk camminare e talk sulle parole camminare sulle parole praticamente oltre che essere appunto walkie talkie quello che è il telefono portatile di una volta chiamiamolo così quel aggeggio che si arriva per parlare tra due persone mentre potevano camminare una all'altra molto 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 interessante Ludum Dare stupisce sempre di più e è una rubrica che vuole portarvi appunto questo tipo di videogiochi in cui possiamo chiacchierare vi ricordo appunto che lo trovate qua sotto in descrizione trovate anche il link per vedere gli altri del sito Ludum Dare e vi lascio anche la playlist come sempre grazie ancora della visione ci vediamo nel prossimo episodio io sono Ista Prey Namaste e Prey Ista Prey Grazie a tutti.